Buona giornata a tutti, ben ritrovati cari telespettatori. Oggi è il primo di luglio, primo luglio 2022, è venerdì, siamo dunque in ridosso del fine settimana e queste fanno tv canale 19, il canale che inizia al mattino alle 7 in diretta con la rassegna stampa, un'occhiata ai giornali che come sempre faremo tra poco con il Carlino e il Corriere Adriatico, in particolare le edizioni di Pesaro e Urbino. Allora diamo subito inizio alla nostra rassegna stampa come sempre dando uno sguardo al Santo del giorno, lo facciamo con l'aiuto del cartello, oggi è Santa Ronne, il sole è sorto alle 5.29, tramonterà alle 20.55, andiamo subito a vedere adesso, ve lo faccio vedere, eccola qua, questa bellissima immagine di Porto San Giorgio. Siamo sulla spiaggia di Porto San Giorgio con questa immagine eloquente che ci fa intendere capire subito come si prospetterà la giornata oggi, un'altra giornata di sole, un'altra giornata di mare e buon per i turisti che salutiamo naturalmente e ai quali offriamo questo spaccato con le previsioni della protezione civile delle Marche che per oggi prevedono cielo poco nuvoloso con transito di nuvole stratificate medio-alte, ma insomma a volte può anche essere un bene perché sempre con il sole addosso, anche se uno sta al mare e comincia a essere preoccupante, ma invece ogni tanto un po' di nuvole non guastano, le temperature sono in lieve aumento ma avremo quindi temperature ancora molto elevate, venti di brezza tese nelle zone interne e lungo la costa con raffiche. Per domani invece, domani vedete le nuvole sulla costa spariscono, temperature ancora stazionari oppure in diminuzione quelle massime e poi domenica, domenica 3 luglio, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, ancora condizioni tempo stabile per la prossima settimana con un possibile, probabile peggioramento per la giornata di mercoledì e giovedì. Allora andiamo subito a salutare, oggi è l'ultimo giorno e l'ultimo collegamento, anche se inizia il mese il nostro Nicola, il bagnino, buongiorno Nicola dalla spiaggia dei Bagnarsilla. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Allora giornata calda anche oggi. Giornata bella anche oggi, come quella di ieri, si pronuncia calda come una giornata d'estate e quindi sì tutto bene, cielo e mare si confondono anche oggi. Si confondono anche oggi, c'è un po' di foschia, no, ieri, no, com'è oggi, come sarà oggi? Intanto il mare, il mare, al di là della secca che vedo la bassa maria adesso, però il mare sarà calmo? Sì sì, mettono mare calmo, appena appena divento, ma tutto bene. Ecco, purtroppo Nicola, tra poco andremo a leggere i giornali, quindi la cronaca come sempre la fa da padrona, soprattutto in queste giornate molto calde, vedremo la questione degli incendi, ma purtroppo c'è anche la questione dei malori, registriamo due, uno a Pesaro, l'altro a Senigallia, due persone che sono morte purtroppo per il gran caldo. Ecco, un consiglio veloce per salutarci per chi viene in spiaggia, le cose da fare e da non fare, ma velocemente. Eh beh, non esagerare, non stare troppo sotto il sole e quindi cercare di farlo anche sotto l'ombrellone o nelle zone d'ombra della spiaggia. Per quanto riguarda invece l'acqua, è sempre importante ricordarlo che in acqua anche se è Noi, sì, abbiamo già messo dei cartelli dove invitiamo la clientela ad utilizzarla sempre meno, per viste le siccità e il problema già che c'è dell'acqua. Bene, no, dicevo l'acqua è intesa come entrare in acqua al mare, cioè quando uno ha mangiato i tempi da rispettare, queste sono importanti, no Nicola? Bisogna ricordarlo, visto che tu offri anche da mangiare. Sì, soprattutto se ci si abbuffa troppo. Ho visto che con questi caldi comunque la gente tende a mangiare sempre meno, quindi comunque sia dopo quell'oretta e mezza, due, non c'è più, non c'è problema nell'entrare in acqua. L'importante è non sentire freddo, così mi hanno sempre detto, no? Esatto, esatto. Se uno sente freddo, via subito. Grazie Nicola, buon lavoro, buona stagione, buona estate. Grazie Marco, grazie a voi, volevo solamente rubarti 30 secondi per salutare tutti i ragazzi che lavorano con noi e ringraziarli, che comunque sono tutti dei bravi ragazzi, e mandare un bacio al mio piccolo Bruno e il mio Morosa a casa. Bene, va bene. Grazie, ciao buon lavoro. Ciao a tutti, grazie per l'opportunità. Prego, grazie a te. Allora, andiamo adesso sui giornali, dicevamo del problema anche degli incendi, questa è la fotografia, abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale, occhio alla notizia, la paura a saltare, siamo in provincia di Peso Urbino per Villa del Balì, le sterpaglie a fuoco proprio lì a ridosso delle case, case a rischio, questa è l'immagine, vedete la chiesa di Saltara, sullo sfondo la collinetta andata letteralmente in fumo. Sulla questura invece a Pesaro, accelerata sull'iter il 6 luglio l'accordo per spostarla alla caserma Cialdini, un cronoprogramma rigido da osservare, il dirigente Todisco ai saluti, il questore va in pensione proprio da oggi, Baby Gang dice lui, facendo un resoconto, un bilancio dell'attività svolta sotto la sua direzione, Baby Gang le abbiamo tutte individuate ma l'età di questi componenti, di questi ragazzi si sta abbassando, quindi lancia un po' un allarme, soprattutto rivolto ai genitori, tenete da occhio i vostri figli. Contagi più 70% in sette giorni ma i casi gravi restano stabili, mentre un ex designer muore colto da infarto davanti ai bagni 27, mentre Tiviroli non molla il grande invaso è un atto di coraggio, Tiviroli è l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, sulla ferrovia adriatica Bucchini va all'attacco del ministro Giovannini e poi sotto fierezza del cognome e un tesoro di valori la lettera ricordo della famiglia di Marcello Berloni consegnata al nostro giornale, cioè al giornale Corriere Adriatico, alle 16 i funerali, mentre lo Sport alla VL c'è Visconti e Mazzola si avvicina. Andiamo adesso sul resto del Carvino. Il tema del POS, cioè del pagamento elettronico con il Bancomat, è un tema che la redazione pesarese ha voluto sviluppare un po' sia su Pesaro che su Fano, troveremo questa notizia, sulle due pagine appunto dedicate alle due città più importanti della provincia, importanti intese anche come popolazione naturalmente. Mentre la fotonotizia è dedicata, l'andiamo a vedere, al Caterraduno che tra l'altro si sta svolgendo, così mi diceva il nostro regista Riccardo, proprio in questi minuti. Allora, quindi alle 7, il Caterraduno si prende la Baia, la Baia intesa come Baia Flaminia, successo per la prima della Kermesse radiofonica, queste sono le immagini e le fotografie, con due Matteo Ricci, in realtà se vedete bene uno è in carne ed ossa e l'altro invece con tanto di fascia tricolore e cravatta, giacca e cravatta invece sagomato, cartonato come si dice. Posto obbligatorio una tassa in più, così almeno la giudicano gli esercenti che sono obbligati, perché altrimenti sono costretti a pagare anche delle multe, sono obbligati a tenere questo post, ma lo giudicano come una tassa in più e un favore, come al solito, fatto alle banche. Di fronte al vincolo del pagamento elettronico molti negozianti protestano, ora abbassate però le commissioni. Poi il Ministro Giovannini è atteso alle 16.30 in Prefettura a Pesaro, si parlerà anche di ferrovia, arriva il Ministro, le associazioni premono, decisivo il nuovo tracciato. Mentre fa troppo caldo, svenimenti e malori, il primario del pronto soccorso di Pesaro dice e anzi consiglia, bevete molto. La tragedia invece ai bagni 27, fulminato da un infarto, un settantenne muore in spiaggia. Colpaccio VL biennale a Visconti, c'è un contratto di due anni a Visconti, la Guardia classe 98 ha già firmato. Sul fronte calcistico invece Cusumano è fatta e la SPAL vuole Cannavò, parliamo ovviamente di tutto ciò che si sta muovendo in casa vis Pesaro. Ma sul Carpegna ci sono 35 gradi, temperature mai viste e l'agricoltura subisce. Questo è il titolo del Corriere a pagina 11 di oggi. Coltivatori di ulivi e viti alle prese con la siccità, prestiti d'acqua e di cisterne, laghetti asciutti. L'anno scorso spesi 5 mila euro, quest'anno sarà lo stesso. Intanto ci sono rotture a proposito di acqua sprecata, troppe rotture con perdite, bisogna intervenire subito. Dunque si parla sempre di più in questi giorni di emergenza idrica, anche sul lato viti ci sono serie preoccupazioni, non tanto per quelle vecchie, nemmeno per quelle piantate due o tre anni fa, ma per quelle giovanissime dall'apparato radicale più superficiale. E ne parla per esempio Claudio Morelli, vi ricoltore a Fano che coltiva nella zona doc Uve di Bianchello del Metauro e di San Giovese e in vigneti ben distinti i vitigni Montepulciano, Cabernet, Vernaccia Rossa. Insomma, tre settimane fa le piogge non hanno eliminato il grave problema delle falde, ma almeno hanno rinfrescato il terreno superficialmente e dato sollievo alle nostre viti, ma non basta, come dicevamo, per quelle giovanissime. E poi, insomma, ci sono anche altri racconti, come quello di Antonio Santini, che è un vivaista a Frontone. Frontone è una località che si trova a 620 metri sul livello del mare. È una delle rare aziende che ha permesso di coltivare e diffondere gli antichi alberi da frutto tipici dell'Appennino Umbro, Marchigiano e Romagnolo. Ed è molto preoccupato, appunto, anche lui perché dice, l'anno scorso mi sono trovato con il mio laghetto praticamente asciutto, le sorgenti morte e per far sopravvivere le mie piante in vaso ho dovuto comprare cisterne d'acqua e sborsare intorno ai 5 mila euro e vedo alle porte un'estate simile. Quindi lui coltiva peri, poi nespoli, sorbi, azzerruoli, insomma, ecco, questa è un po' la situazione, la fotografia che certamente sul fronte agricoltura è abbastanza preoccupante. Muore invece sulla spiaggia fulminato da un malore, è la pagina della cronaca di Pesaro del resto del carino di oggi, è una tragedia che si è consumata ieri mattina ai bagni 27, la vittima è un settantenne di Pesaro, soccorso ancora in mare, alla palla di Pomodoro era atterrata anche l'eliambulanza. Camminava, camminava nell'acqua e a un certo punto, pur il caldo non essendo ancora intenso, improvvisamente si è, dopo le 9, questo settantenne che è un pensionato, si è accasciato in mare all'altezza dei bagni 27, prospicente all'hotel Excelsior ed è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio. Poi qualche bagnante che era lì vicino è subito corso per sostenerlo però senza avere nessuna reazione, quindi un malore fulminante. Andiamo sulla pagina invece del Corriere Adriatico, sulla Val Metauro, da Saltara, vedete le fotografie, alcuni scatti fotografici di questo incendio di sterpaglie che ha preoccupato non poco, perché fin quando non è spento tutto quanto non si può mai dire stare sereni quando c'è un incendio in corso, anche se si può ipotizzare magari che rimarrà circoscritto in un certo ambito. Con il vento, con il fuoco non si sa mai come va a finire e quindi ieri mattina, insomma ieri c'è stato questo problema vicino tra l'altro alla villa del Bali, siamo a Saltara in provincia di Pesurbino, ecco un incendio di sterpaglie, le fiamme lambiscono le villette, questo è il titolo, paura per il muro di fuoco vicino al Bali, chiesto l'intervento dell'elicottero che poi tra l'altro è arrivato, vedete nelle fotografie, vi abbiamo fatto vedere anche le immagini, ringraziamo a proposito i tantissimi reporter che ieri si sono prodigati in sicurezza con il loro cellulare per farci vedere e darvi la possibilità di vedere come si stavano svolgendo in quei momenti i soccorsi e quindi ecco ringraziamoli, ricordiamo che abbiamo questa pagina gestita dalla redazione di Fano TV che ha ormai un gruppo chiuso, su Facebook che ha quasi ormai 8500 reporter di strada, pensate un numero incredibile e che ci invidiano tutte le redazioni d'Italia. Allora passa la variante di Ghilardino, l'area è industriale, via libera all'installazione dell'impianto di produzione di congelamento bituminoso, siamo a Fossombroni, il Consiglio Comunale ha preso atto del riconoscimento della VAS, valutazione di ambientale strategica, alla ditta di bitumazione Boscarini per l'area appunto di Ghilardino. Mentre anche sulla pagina di Senigallia purtroppo si registra un altro malore fatale, davanti in questo caso alla famiglia, storico turista muore in spiaggia, inutili le disperate manovre per rianimarlo, sotto gli occhi dei bagnanti, Cantori aveva 86 anni. Allora è stato colto da malore ieri mattina Alessandro Cantori che è uno storico turista della spiaggia di Velluto di Senigallia che da decenni trascorreva le vacanze a Marzocca. Il decesso è stato constatato ai bagni Euro Beach sui lungomari Italia, proprio di fronte all'hotel Rex, in una zona molto frequentata. L'86enne è residente a Cento, siamo in provincia di Ferrara, si trovava ieri mattina in spiaggia insieme alla sua famiglia, poi verso le 11.30 è andato a fare il bagno in mare senza allontanarsi troppo dalla riva, come era solito fare. La moglie, la figlia e la nipotina erano rimaste sotto l'ombrellone, non troppo distante ad aspettarlo, però poco più tardi si è sentito male improvvisamente, l'hanno visto fare una bracciata, alzarsi in piedi e poi di nuovo accasciarsi e lì poi non si è più ripreso. Adesso invece continuiamo a parlare di caldo, il carlino a pagina 4 dà alcuni consigli che non sono mai troppi, anche se ne sentiamo ormai da tutte le parti, però non sono mai tanti, non sono mai troppi. Allora caldo africano, molti anziani in ospedale, il pronto soccorso di peso recolodifano stanno curando sempre più pazienti collassati a corto di potassio e sodio. E allora ecco i consigli, i consigli che troverete sulla pagina di oggi del resto del carlino. Incrociando le dita, dice il primario Giancarlo Tito, il primario del pronto soccorso, rispondere sui problemi della calura è segno di normalità. Dunque consiglio, dice agli anziani, di bere molta acqua e di mangiare frutta. Possono essere presi degli integratori, ma prima di tutto va bevuta molta acqua, non si può rischiare di finire disidratati. Una volta arrivati al pronto soccorso, trattati con specifiche terapie e poi sono rimandati a casa. Aggiunge titolo, i pazienti Covid sono lo stesso numero di coloro che arrivano per malori dovuti al caldo, con una differenza i contagiati li scopriamo noi, perché in realtà quei pazienti arrivano qui per altri motivi. Adesso invece la questione del POS. Il POS è quella macchinetta che serve per prendere i soldi senza usare i contanti, quindi con il Bancomat oppure adesso con il cellulare, pure con l'orologio, insomma per pagare i metodi li trovano tutti, per riscuotere un po' meno. Anche il caffè al bar si paga con il Bancomat, titola questa mattina il Corriere Adriatico. Il POS infatti è obbligatorio. La nuova normativa è in vigore da ieri, previste sanzioni per chi non si adegua, quindi per i commercianti, perché adesso voi se andate per esempio al tabaccaio, ipotesi, al tabaccaio ce l'hanno ormai tutti, ma andate al parrucchiere. Il parrucchiere che solitamente prende i soldi in contanti, non si è mai preoccupato di usare il Bancomat. Voi volete pagare con il Bancomat, lui non ce l'ha, è passibile di multa, perché lui è obbligato, così come tutti i commercianti, ad avere appunto e di darvi la possibilità di pagare con il Bancomat. Ora, la docente Lucarelli dice che è un'evoluzione necessaria per una maggiore trasparenza. Anche questo può essere vero, se vogliamo vedere un lato della medaglia, però dall'altro, come sempre, io do ragione ai commercianti, nel senso che si tratta di una tassa in più, di commissioni ancora troppo elevate, allora va bene, volete il Bancomat, volete tutto, benissimo, però abbassate di molto le commissioni, perché ci sono commissioni che sono ancora un po' troppo elevate. Comunque, questo è il riquadro che pubblica il Corriere questa mattina, per tutti i professionisti, commercianti, artigiani c'è questo obbligo, le multe sono 30 euro, se uno viene pizzicato senza il Bancomat, senza il POS, e più 4% del valore della transazione. Sono 143 mila le imprese interessate nelle marche, di cui 9 mila, quasi 10 mila, attività ricettive di ristorazione, 33 mila commercio all'ingrosso, al dettaglio e riparazioni, quasi 6 mila le attività professionali e dedicate alla tecnica. Anche il giornale, il resto del carriero, questa mattina gioca un po' con i titoli, si salvi chi possa e alcuni tabaccai protestano, da ieri il dispositivo obbligatorio per negozianti e artigiani professionisti, ma chi vende genere di monopolio ci rimette. E dicevamo cosa si rischia? La sanzione di 30 euro e il 4% della transazione. Dovremmo fare fronte comune per chiedere commissioni minime, dicono appunto i commercianti. L'altra invece questione calda è la seguente, cerco di farvela spiegare in 30 secondi, la questione dell'arretramento della ferrovia adriatica. Allora Pesaro, con il suo sindaco Matteo Ricci, si è mosso, come piace fare a lui, in anteprima, in anticipo su tutti e ha fatto insomma il suo lista, è andato al Ministero, ha fatto tutto quello che doveva fare per cercare di ottenere l'arretramento su Pesaro della ferrovia. Poi ha detto che faccio, arretto solo a Pesaro e tutto il resto rimane a ridosso del mare? No. E allora infiliamoci dentro anche Fano, che un po' sonnecchiava. E Fano dice, ah ok, va bene, ci stiamo anche noi. Marotta, Mondolfo, il sindaco Nicola Barbieri, giovane sindaco Barbieri, dice, ma che fate, tutto da soli? E noi che facciamo? Restiamo fuori? E Barbieri qualche giorno fa se n'è uscito con parole di fuoco contro Ricci, contro Seri, che sono abituati, dice lui, a fare queste cose, particolarmente Ricci, sono abituati a fare queste uscite così in solitaria. E poi oggi, arriviamo all'oggi, oggi che succede? C'è pure l'ira di Confindustria. I piani sull'Adriatica penalizzano Ancona. Quindi a scendere giù, siamo partiti da Fano, Fano, Marotta e adesso Ancona, che si arrabbia con il suo presidente Bocchini, che bacchette il ministro Giovannini, che tra l'altro è atteso oggi appunto a Pesaro per un incontro sulla ferrovia Bologna-Lecce, dice bene il bypass nel nord della regione, ma basta fare figli e figliastri. Venga a vedere in prima persona gli effetti dell'attuale progetto sulla provincia d'Orica. Quindi come sempre adesso si svegliano e tutti quanti vogliono in qualche modo che si faccia anche nell'orticello di casa qualche cosa di buono. E l'arretramento, dice sulla pagina di Fano del Corriere, il sindaco di Fano, l'arretramento della ferrovia è un'opportunità. La Giunta rilancia con una proposta esecutiva unanima, il tracciato della ferrovia nel corridore individuato per la 14 è rimasto sulla carta. Quindi c'è una proposta di spostarlo laddove c'era già un tracciato previsto, quindi senza andare a stravolgere e rifare un nuovo tracciato, ce n'era già uno previsto per la 14, quindi farlo più o meno da quelle parti. Sotto decoro urbano, restiamo sulla pagina di Fano, il decoro urbano e manutenzione del verde, le proposte i ragazzi di Cistò, a fare fatica, si parte l'11 di luglio. Seria, arretramento dei binari, un'opportunità, la Giunta ha dato mandato al sindaco perché sostenga il progetto, la stazione sarà o a Carrara di Fano oppure a Chiaruccia. Diverse sono le possibilità, anche qui non so se è fantascienza, fantapolitica, non si sa cos'è, però a leggerlo sotto l'ombrellone anche notizie così fa sempre piacere, sognare un po'. E oggi arriva la strigliatina invece, e qui già cominciamo a salire di grado, sempre su questa questione, dell'assessore regionale appunto di riferimento, quando si parla di lavori pubblici, che è l'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, che oggi dice che le cavalcate in solitaria sono nocive e stancanti. Basta con i particolarismi, il bypass di Pesaro deve rientrare in un progetto complessivo. E già capite che se da una parte la Regione dice una cosa che è contraria a quello che dice il Ministero, o non si trova l'accordo, o già di per sé solo sull'idea o sulla carta sono divisi, già vi fa capire che questo progetto andrà alle calende greche. Ma comunque, al momento la Giunta è di centrodestra, a Roma ci stanno quelli del centrosinistra, quindi la vedo un po' dura. Ma al di là di questo vedremo un po' come andranno avanti le cose. Intanto Baldelli continua e dice che le cose vanno discusse nelle sedi opportune e noi lo stiamo facendo. Comprendo benissimo le preoccupazioni del Presidente Bocchini di Confindustria, come abbiamo appena visto. Poi c'è l'esperto Catraro, che è un ex dirigente di rete ferrovie italiane, che dice che è necessario il raddoppio del numero dei binari. La questione della linea adriatica ha assunto una valenza molto più ampia del semplice arretramento. Dice che occorre raddoppiare, questo è interessante perché qui parla un tecnico, non parla un politico, occorre raddoppiare il numero dei binari dagli attuali due a quattro, introducendo giustamente anche l'alta velocità, altrimenti che si fa fare. Se poi i quattro binari si potranno fare all'interno, liberando dunque la costa, ben venga, ma poi si aprirebbero altri problemi come quello per cui molti comuni non avrebbero più le stazioni in città. Già si parlava di Carrara di Fano, che non è la stessa cosa che arrivare in centro con il treno. Oggi se uno scende a Pesaro, scende a Fano o via via fino a Senigallia, eccetera, è come se scendesse quasi nel centro storico. Domani sarebbe un discorso diverso, vabbè. Però, dice, serve uno studio socio-economico ed un progetto complessivo da Bologna a Bari, proprio perché si tratta di ricucire l'Adriatico e le sue regioni all'Europa. Non bastano piccoli rattoppi o bypass per un appello rivolto direttamente al Ministro Giovannini, oggi e domani nel Pesarese, dice, dovrà sciogliere questo nodo che è effettivamente strategico. Ora, le altre notizie, siamo in forte ritardo, va a comprare droga e si sente male. Un giovane salvato da overdose al parco, il 118 intervenuto nel sottopasso e che collega il Miralfiore alla ferrovia, ancora controlli antispaccio. Mentre il questore Michele Todisco saluta la città e va in pensione, devo dire grazie ad un territorio meraviglioso e grazie anche ai cittadini, chi è che viene al suo posto? Eccolo qua, Raffaele Clemente e il Carlino fa una biografia semplice e veloce di appunto chi è Bruno Raffaele Clemente, 61 anni, casertano, ha lavorato in tutti i vari servizi del Ministero degli Interni che sarà appunto, credo da oggi poi tra l'altro, il nuovo questore di Pesare Urbino. Da Fano, post tassativo, i commercianti protestano, commissioni troppo alte, passaggi festival, i numeri record, serie grande occasione per la città, i numeri confermano le sensazioni, in archivio un passaggio da record, Belfiore e Carnaroli evidenziano il successo con le cifre, ora stabilità finanziaria al festival. Palio delle contrade, si alza il sipario sullo spettacolo, da oggi tre giorni di eventi fino al gran finale della gara a quattro. Pacassoni e il sogno americano, nasce Life, un disco del cuore, stiamo parlando di questo musicista che sta facendo cose importanti in giro per il mondo, poi sempre da Fano, sversata acqua colorata nel porto canale, scafi delle nostre barche a rischio danni, il Presidente della Lega Navale avverte la capitaneria e chiede ai soci di controllare le imbarcazioni. Poi il centro di urno di educativo riabilitativo La Rosa Blu di Mondolfo sarà intitolato a Don Almerino Giuliani, l'indimenticato e amatissimo parco, come? Ho sbagliato? Aldemiro? Cosa ho detto? Un altro nome, mi spiace. Allora, Aldemiro, so che tu sei di quelle parti quindi sicuramente lo conoscevi. Don Aldemiro sarà intitolato a lui appunto questo centro, mentre da Urbino, Arcidiocesi, il centrodestra fa dietro front, tanto che il consigliere regionale Rossi ritira la mozione di sostegno. Il PD attacca e dice alla Giunta siete degli incapaci. Poi da Urbino, Corriera Adriatico, questa la diocesi del divin pittore deve vantare unicità e autonomia. Giulio Lonzi, Cavaliere del Santo Sepolcro, dice non è una questione di provincia ma di patrimonio. Il terremoto a largo di San Benedetto del Tronto, trova spazio nelle pagine del Corriere di San Benedetto, è il secondo terremoto registrato in un mese, una scorsa brevissima avvertita ai piani alti e nella zona collinare. Siamo allo sport, Fano è tramontato a Maranti, l'ex capitano va infatti alla Reggiana dove ricoprirà l'incarico di responsabile del settore giovanile, resta ancora vacante il ruolo del responsabile dell'area tecnica, il Presidente Russo al lavoro, mentre Cusumano raddoppia, resta alla Vis Pesaro. È tutto, grazie per averci seguito, buon fine settimana e soprattutto ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie.